mi fa un saluto cogliardi col mio amico vincenzo innovatore ciao vincenzo ciao andiamo a vedere altra persona gianluca dario state friziando magari magari antonio tutto maschi tutto maschio maestro sembra un ragazzo bravo non te ne fregare di nessuno quanto sfuttano perché sono molto invidiosi di te viva face ti voglio bene solo perché questa cosa ti butto in generale in principale però davvero ti butto in principale ecco principale poi basta rimorchiare maestro grazie poi mauro d'amico maro d'amico mauro colir va buono o aglione emozionato poi venimo qua un minuto fa antonino carcione mi piace a fes ottimo anche a me poi vediamo un po guai guai maestro troppo forte ti adoro grazie pure amore mio grazie ma quanti messaggi mi stavano carmen attenzione attenzione la bucchiocca aspettate 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 ti allora ti voglio presto bene anche io ti voglio bene anch'io carmen grazie mille un bacione allora andiamo carmen principale 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 sì sì per forza per forza sì sì o no ok principale prima adesso le si vuole bene vedi principale ottimo 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 content questo ottimo content cazzo aggiorniamo ottimo content ok c'è anche lulù ciao lulù mi saluta ciao bellissima principale anche lei bene devo stare spesso sta cosa di instagram vedete sono credito io sono credito sono credito vedete mi sa che devo stare un po' presso instagram ah c'è anche la rossella ciao rossella ti amo troppo ma c'è una rossella ma anche tu no in generale rossella dov'è 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 il culo gait chissi occhio belle genna viva la pocciacca sembra un gap sono in live anch'io potisse rispondo sulla bucchiacca pienso mamma mia che facciamo veramente genna rispondo faccio posteggiare livelli bucchiacca stammamise buona mamma mia solo alla festa si risponde noi neanche alcoli o fuata ma che stai c'è lì cioè quando è chissato che hai tu no ma secondo voi potesse rispondere sulla bucchiacca pienso mamma mia rispondi veramente rispondi faccio posteggiare bucchiacca stammamise buona cioè veramente fra ti sposto in principale sei un grande ah c'è un'altra ragazza miriana maestro è davvero un grande la stiamo molto viva la bucchiacca se mi dici così miriana ti devo spostare in principale ti devo dare il mio numero tesoro mio cioè ok ok vediamo un'altra ragazza come si chiamava così ma è scusa se uno mi dice così non sto scherzando per farvi dire che è vero guardate non dico stronzate cioè